ciao ragazzi siamo qua su slender ciao ragazzi siamo qua su slender hospice ok sono otto di quelli allora oggi mi caccherò sotto avverto che urlerò che non ho mai giocato a sto gioco perciò mi caccherò sotto e vabbè già cominciare la peduca d'onde qui anche senza musica allora vediamo qua comincia già eccolo qua la la peppa comincia la musica vediamo qua dentro cosa c'è niente una peppa una ceppa una cepparapap che bello giocare a questo giochetto e collocate no comincia ahhh bambuculo eeeh slender cominci già non guardare indietro qua non c'è niente vediamo di qua qua non c'è niente qua non c'è niente qua non c'è niente eccola qua 4 su 16 mazzolina allora vediamo questa porta qua e andiamo di qua andiamo da qua che bello come le grapparie d'oca ok poi siamo a posto anche andiamo di qua qua non c'è niente che bello eh quando slender mi fa cacare addosso qua sto girando intorno questo è già entrato andiamo di qua andiamo di qua altra stanza altra corsa no già pensavo già pensavo di trovarlo altra pagina eeeh vaffanculo sta musica vaffanculo sta musica ti odio slender ti odio slender altra stanza altra corsa altra pagina non c'è non c'è non c'è non c'è stanza altra corsa eeeh eeeh vaffanculo perchè mi sono girato questa pagina vaffanculo ma vacca vaffanculo si si Ciao Slender, non ci sei? Un momento in cui l'harà sicuro Vabbè, grazie a tutti